Allora, volevo dirvi una roba... Sto per pubblicare una storia di tantissima sinistra per me. Sei su TikTok? Tiktok? Eh, guarda, mi piacciono questo nome. Per i volumi, per i fischi... Eh, TikTok, no? No, 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 no... Non so, vuoi fare una canzone, qualcosa? Ti stanno riempendo di mi piace, sei già a 195. Vai provare ancora! Franceschini, Franceschini! Sì, sì. Lo facciamo per la diretta di TikTok di Paolo Favano, eh? Eh... Phantom? Sì, sì. È solo per Paolo Favano. Chiede dove vi trovate, in compreso, dove siete? Allora, siamo a Precenicco. Precenicco, è già stato detto prima, è provincia di Udine. E adesso provo. E adesso c'è una prova... Un soundcheck. Un soundcheck, però diciamolo in italiano... Una prova a microfono. E strumento anche. Santo Cecco. Santo Cecco. Però non mi danno la... Vabbè, intanto puoi improvvisare qualcosa con gli amici di TikTok. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano, un italiano vero. E' spettacolo di cabaret, compreso. La 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 la... Musica cabaret. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Lae la la... Lae la la... Il suo tono! La 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 la... La 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 la... Le che ne sono fiero. Noi. Sono un italiano. Segueda! Un italiano vero... Un applauso, un applauso, sempre la nostra soundcheck qui da Precenico. Torniamo su Davide Stefanato. Ma siamo TikTok o Instagram? Qui è TikTok, se vuoi la facciamo anche su Instagram. Non so, scegli tu. Hai più mi piace su TikTok di solito. Va bene, amici di TikTok, ma veramente hai gente che dice che ti avranno 13 anni su TikTok? Quanti mi piace abbiamo preso? Quattrocento e quaranta. Quattro e quaranta. Quattro e quaranta. Sono tanti amici. Ecco, si può far meglio. Quella è una canzone che può... Possiamo chiedere anche al pubblico che canzone volete ascoltare che Paolo Franceschini vi può fare? Ah, proprio c'è un'interazione... Sì, adesso, guarda, loro rispondono qua, intanto inquadro d'altro. Perché inquadri più? Adesso qualcuno ci dirà cosa vuole ascoltare. Eh, per favore, per favore. Per favore! Per favore. Se posso instagliare... E forse vorre... E poi la carta è usita in casa. Sì, eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. E poi questa canzone, questa canzone, che canzone volete... Eh, non stanno chiedendo nulla... Quelle che volete. Ah, bella, bella, bella. Quando io sono solo con te, hai mesura dentro di te, ma che caldo qua dentro, ma che bello momento. Quando sono con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, schiena è più dritta. Quando penso a te, c'è un pulmon perché io ti sento qua dentro di me, io ti sento qua dietro di me. Bella, bella, bella. Quanto è buono l'odore della donna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che è sotto rimbomba. Come è il bomba, l'odore dell'ombra, come è il bomba, come è il bomba. E come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra. Qua siamo a posto.